E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano e chiesto di chiama GTA 5 E oggi stiamo qui con un nuovo si può fare molto speciale Perché questa volta, e anzi per la prima volta Saremo in compagnia di SP Jockey e Luca Esattamente, abbiamo chiesto un loro aiuto Perché dobbiamo provare delle cose davvero complicate Che ci avete proposto Quindi abbiamo fatto, dai, facciamolo in compagnia Così diciamo, rendiamo tutto un po' più semplice E succederanno delle cose davvero particolari Che vanno la pena di essere viste Quindi buona visione ragazzi Benvenuti in un GTA Si può fare davvero, davvero complicato Quest'oggi abbiamo dovuto chiedere una mano Ad ESP e Luca Dato che da soli non ce la possiamo fare Allora ragazzi, siete pronti? Assolutamente sì! Ci saremo un sacco d'aiuto Sì, ci saremo un sacco d'aiuto E io non so se potrei essere d'aiuto ESP Però abbiamo scoperto già una cosa simpatica Prova a salire sopra il carro armato nella canna Vai, vai, vai Vai, ESP, sali, vai Guarda Ti porto in giro Oh mio Dio Oh mio Dio Aspetta, voglio farlo di nuovo È una sorta di ascensore, guarda Un ascensore che però va dritto Anzi che in alto Eh beh, aspetta un attimo Luca prova un attimo È un tipo di attrazione di card Voglio provare anch'io Voglio provare anch'io Vai Insomma Dai, Spicola mi sembra Vai Vai, ce la potete fare Dai Perché abbiamo il carro armato? Perché ci avete consigliato Uno dei si può fare Il più geniale della storia del mondo Allora Dobbiamo aprire il nostro solito camion Perché sapete benissimo Dove ci sono io Che online il camion si apre soltanto così Esatto Non si è aperto Com'è che l'hai aperto, Stef? Allora, guardate Un po' di pegli Aspettate Non credo si apra così Siete molto simpatici voi due Guardate che è una tecnica Che mi ha insegnato mia nonna Praticamente dovete fare così E tirare una sberla al camion Porca Fin quando non si apre Noi dobbiamo Entrare con la moto volante Dentro al camion Dopodiché provare ad utilizzare il turbo E vedere che cosa succede Perché Se il camion viene spinto Può essere rimane fermo Eh, secondo me Non lo so Potrebbe essere spinto, eh Allora Aspettate che la prima difficoltà È entrare dentro il camion Ok Ok Si sono dentro Ma l'hai messo la polizia Cioè se è entrato e mi arriva la polizia Scusa, Fede Ok Io non prego nulla Due Uno Via Niente Niente Aspetta Con più cattiveria Ma No No Non succede nulla Un attimo Un attimo Un attimo Aspetta un po' si è mosso Sono quasi morto E si è mosso di due centimetri Allora Luca o Espi Venite a provarla voi No, no, no Esatto No, no Comunque questo ufficialmente Non si può fare Ci sono rimasto male Speravo che potesse funzionare Io ci speravo un pochino Pensate se il camion Avesse iniziato a volare in giro a caso Eh, sarebbe stato bello Quello sarebbe stato epico Comunque Dobbiamo provare tante altre cose Allora Ne volete provare un altro Con la moto volante O prima uno col carro armato Votate voi Dai che siete gli ospiti speciali Della puntata Vai Decidete voi Cosa vi intriga? Io vorrei Io vorrei un po' di moto volante Ok Allora Espi Allora facciamo prima quello di Espi Dai sono gentile Dai sì Però Ma Luca sai perché? Perché Espi non sa Che fine fa quello che sta sopra la moto Ok E fine fa quello che sta sopra la moto Allora praticamente Ma perché c'è gente che mi investe ovunque? La tua stessa fine Ci spostiamo un pochettino più a destra Ragazzi Ragazzi va Io continuo a vedere Steph investito Troppo tardi Steph Ci conviene spostarci dalla strada Aspetta che arrivo anch'io In un vecchio si può fare Io e Fere abbiamo scoperto che Se prendi fuoco e ti butti giù da un palazzo Continui a bruciare all'infinito Esatto Ok Giustamente i consolini ci hanno chiesto Ma se mettiamo fuoco a una persona Che sta sopra la moto volante E vola Continua a bruciare? Diamo fuoco a Espi E quindi Espi diciamo Perché sei per me? E qui per farci scoprire questa cosa Allora eccoci qua Aspetta un secondo Steph Ok Ecco la tarica Fere può andare anche di moto Steph con questa cosa Allora Espi Prima apri le ali con X Stai guidare Espi Poi devi premere col turbo E midi verso l'alto E quindi impegni E quindi voli in alto Ok D'accordo Allora Fere ti brucia Dopo che ti brucia tu parti Vai Fere D'accordo Quando vuoi? Vai Ok vai Ok vai vola Corri Wow Continuo a prendere fuoco Espi Ti sei spento Espi? Non so bene come controllare questa cosa Come sta andando Espi? Ci sono un sacco di farfalle qui Che bello Espi Io verificherei eh Oddio cosa ho fatto? Sono salito su un palazzo Ma dove è finito? Non lo so Ti è spento due volte Due volte su due Quindi direi che non fa Peccato Una moto infuocata volante Sarebbe stata bella Però per un po' lo è stato Lo so Luca è un po' di polizia arrabiata Te lo dico Sì Questa volta purtroppo sono io la cavia Allora Vi spiego che cosa dobbiamo fare Sono chiesto Cosa succede se indossi l'armatura balistica E con un cargo bob E porti in altissimo un carro armato E poi lo fai cadere sopra l'armatura balistica Uuuu ma questo è bellissimo Che bello Ho un po' Personalmente ho un po' di paura La polizia mi spara Espy Vatti uccidere Così almeno la polizia smette di romperci le scatole Perché oggi non li sopporto più Carro armato agganciato Adesso salite in alto Venite un pochettino poi di più verso di me E io mi preparo Espy Voglio fare Puoi farmi una pregherina? Ho un po' di paura Io temo che morirò Guarda Espy dove sta andando Preghiamo Per l'armatura balistica di Steph Ok E non solo Anche per Steph stesso Perché non penso che ci sarò più Sai se viene spiaccicata l'armatura Credo che anche io Finirò male L'abbiamo pagato un sacco Quell'armatura 5.000 dollari Espy Per essere precisi 50.000 No 5.000 Solo? Ogni volta che le evoco 5.000 Ah ogni volta che Ma vabbè Allora Mollala 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 Ok Ok Dai Steph No È andato bene Steph Tutto bene Stai bene Cos'è successo Steph rispondi A parte un infarto Espy tutto Per fortuna Forse è stato peggio Essere mancato Piuttosto che essere colpito Io ho fatto Ma l'ho schiacciato Mi girerai lì a fianco Uff Ok dai Proviamo Vi prego Cercate di prendermi Perché qua Non posso sopportare Allungo Dove sei esattamente Eh vabbè Ci lo facciamo Cerchi di starci sotto tu Capito Ok Siamo pronti Vai Vai Luca Mollala 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 Dai Non è morto Sono vivo Non è morto Sono vivo E questa volta ti ho visto Che ti ho preso in pieno Un pochino di sangue Però Pamodoro Però per il resto Va tutto bene Dobbiamo testare Una cosa molto particolare Allora vi spiego Voi due che non l'avete mai visto Praticamente Tempo fa abbiamo scoperto Un bug Che quando prendi fuoco E ti butti giù Da un palazzo E apri il paracadute Continui a bruciare All'infinito Fin quando non tocchi terra Ok I consolini Ci hanno chiesto Di controllare Questo bug Col visore termico Del fucile Quindi In poche parole Io ho una scusa Per risparmiarmi Di prendere fuoco Quindi metterò fuoco A voi tre E vi asserverò Col visore termico Mentre scendete Mi raccomando Non appena vi buttate Aprite subito il paracadute Così il volo dura tanto tempo E vi posso asserrare per tanto Allora Vi conviene Va bene Sei pronta Vai sì vai Spostatevi un po' Allontaniamoci noi Espi va bene così Su che è divertente Fare un po' di scienza Vado Tantissimo Vai pronta Ok vai fare Vado Metto il mio bel fucile Ehm Ferre Non mi si è aperto il paracadute Ok Qui sotto c'è un piano Perfetto 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 Chi altro vuole provare Espi Hai visto che è bella Fina ha fatto la tua collega Purtroppo Vai in quella punta Ah tu voglio scantarmi Ah Luca Vai tu dai Va bene Dopo due Del genere Spero che almeno Luca mi darà Qualche soddisfazione Bravo Espi Era proprio quello che volevamo capire No anche io mi sono subito spenta E infatti ho lasciato mezzo perdere E poi sotto c'era un piano del palazzo E mi sono schiettata lì Però mi sono subito spenta Ma com'è possibile Ferre? Non lo so Non chiedermelo Allora Luca Tu apri subito il paracadute Mi raccomando Vai Ok Lo sento provare Sono a fuoco Sono a fuoco Ok Aspettate che io lo devo osservare Allora Stai ancora bruciando Luca? Sì sì Ok Continui a girare intorno Allora Si è spento? Si è spento Come? Ferre ma perché su di me Ha funzionato? Non lo so Solo su di te Cos'è successo di diverso? Non lo so Avevamo fatto la stessa identica cosa Allora Aspettate Devo riprovarlo su me stesso Si può fare cambiato In questo momento Eh ma chi è che guarda col visore? No no vabbè Mi metto fuoco E vedo se c'è ancora il bug Ok Ok Adesso Apro il paracadute Eh Io sto continuando a bruciare Non so che dirvi Aspetta Ti stai spegnendo Ti sei spento Ma allora cosa è successo la scorsa volta? Non esiste più L'hanno fixato Può essere L'ultimo si può fare di oggi secondo me è anche il piuttosto da provare Allora dobbiamo cercare col cargo bob di acchiappare il sottomarino Dopodiché dobbiamo andare in un lago e vedere se il sottomarino si può utilizzare anche lì Dopodiché ci sarà l'interesse di vedere quelle acque esplorate col sottomarino Ok Ok Preso 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 Già questo era un dubbio che avevo Si può prendere un sottomarino? Si può prendere Si può prendere Si può prendere Però secondo me sei Steph nel lago non va Ah dici Io te lo dico Secondo me Dici che va solo con l'acqua del sale? Non con l'acqua del sale L'acqua salata Eh eh Vabbè dai L'acqua del sale Allora tu non vedi il gioco che io vedo No dicevo non tanto l'acqua salata Ma proprio il mare Quindi diciamo un posto dove l'acqua è molto più ampia rispetto a un lago In cui comunque abbastanza Guarda la prima persona Bellissimo Bellissimo Praticamente vedo tutta la città Dato che è fatto tutto di vetro sto coso Mentre sono sull'elicottero fa una paura incredibile Sta roba è davvero estrema e pericolosa Luca siamo vicini? Perché mi sta avendo Sono quasi Un po' Vediamo l'orizzonte Un po' di mal di mare volando Diciamo un mal di volo Il mar di lago Fatemi vedere Una piscina gigante Uh Però no 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 Andiamo senza rischio Perché le piscine di solito io le ho testate tutte Quando questo si può fare E le piscine sono troppo basse Possibilità secondo me Dai Perché è bello grande Ok Lascio Buttami anche dall'alto Però si è sicuro di essere in acqua Allora no secondo me conviene scendere un po' Voglio fare il tuffo No me l'ha buttato No Perché No Perché abbiamo rovinato tutto Perché dall'alto Ma ero sopra tantissimo È che è andato tutto in là Prima di andare a riprovare quella cosa che abbiamo miseramente fallito Ovvero di provare a vedere se funziona nel lago Facciamo un altro test al volo rapido 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 Vediamo cosa succede Se io vengo lanciato da in altissimo nel mare E quindi vediamo diciamo se quando impatto l'acqua esplodo O se sopravvivo e non succede nulla Secondo me muori Anche secondo me Secondo me esplode No per me Io dico che vai in acqua Luca è sempre speranzoso È molto fiducioso È molto fiducioso Perché noi abbiamo visto tanti si può fare fallire Quindi Esatto Vai 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 verso l'alto Vai verso l'alto Può andare bene O vogliamo salire ancora un po' Dai dai saliamo ancora un po' Esageriamo Esageriamo Ormai Ormai Ok secondo me ci siamo Che ansia Siamo tanto in alto Dai 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 Molla Luca Se devo esplodere così esplodo Vai 3 2 1 Ok In prima persona In prima persona Geranimo Guarda quanto ci mette a cadere Guardalo Uuuu È andata Tutto ok È andata È vivo Sono vivo Non so dove sono Non so dove sono ma sono vivo Aspettate che Cerco di tornare su Eccomi Eccolo Sono tornato saltando Siamo di nuovo qui ma c'è un problema Si è spaccato il vetro Nel sottomarino E non so come è fatto a perderlo Quindi si potrebbe rompere Anche in quel senso Comunque vediamo Se funziona il sottomarino Senza il vetro O no Dai Vai Ok Funziona Stef Allora Mi posso muovere Mi posso muovere Guardatemi Ciao Faccio un bagno Così arrivo Vieni Esfi Vieni a salutarmi Io pensavo che avrebbe funzionato Però questa cosa Che posso restare sott'acqua Senza il vetro Non me la posso spiegare Non c'è modo di spiegarla Ma non è vero Stef Cioè Sono sott'acqua da almeno 10 secondi Mi vedi? Sì Sono senza vetro Giusto? È vero È vero Sei completamente senza vetro È senza il vetro E lui riesce comunque a stare sott'acqua Senza morire Abbiamo scoperto un altro bug Un cambio di apnea Non è colpa nostra No no Qua abbiamo trovato un bug Abbiamo trovato Esfi ma riesci a tirarmi tipo Qualcosa addosso Dato che non ho il vetro Aspettate ma non so Non posso annunciarti nulla da qui sotto Non puoi usare nessun'arma Mentre noti Magari posso picchiarti Aspetta che prendo un po' Un po' di fiato Ok ok Vediamo se riesce a darmi un pugno Mi piace Vai 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 Sali un po' Non riesco a picchiare sott'acqua Non riesco Perché ti è piaciuto Sali�